E' destinata ad ospitare bambini con diverse abilità la stanza Arcobaleno, inaugurata all'Istituto Vittorio Alfieri di Crotone. All'iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune hanno partecipato la Presidente, Anna Maria Oppido, l'Assessore alle Politiche Sociali, Filippo Linzi, la Dirigente della Scuola, Gisella Parise, e le componenti della Commissione. L'inaugurazione dello spazio, arricchito da giochi, poster, libri, è stata una semplice ma sentita festa, alla quale hanno partecipato anche i piccoli alunni della scuola. Abbiamo pensato a questi bambini perché, partendo da noi adulti, da quando siamo in crisi, e vogliamo stare in silenzio, vogliamo partarci, allora abbiamo pensato che anche le scuole del Crotanese dovessero godere di quest'aula, va bene, destinata appunto a questi bambini. È un progetto ambizioso, questa è la seconda inaugurazione che facciamo. A donno del vero, la seconda con questa amministrazione, ma la prima partita dalla commissaria appunto Valentina Borrelli, che ancora prima che si insediasse in Commissione ha voluto dare idea e quindi ha realizzato questo progetto. Il progetto noi lo abbiamo sposato e l'amministrazione ci è vicina in questo, nel senso che l'intento è quello di programmare nei prossimi due anni la realizzazione di queste stanze arcobalene in tutte le scuole del Crotanese. Ebbè, è una bellissima iniziativa. Ringraziamo innanzitutto il Comune, la Commissione Pari Opportunità, che ci ha pensati per la costruzione di quest'aula, che darà la possibilità ai nostri alunni diversamente abili nei momenti in cui necessitano di un momento di solitudine, di non stare in classe, di in qualche modo ritrovare se stessi, di poter godere di una stanza bene arredata, con dei giochini molto belli, la stanza è molto accogliente e molto motivante. Grazie a tutti.